Vincere le sfide di un patrimonio in transizione è stato il tema della tre giorni di studi e approfondimenti organizzata dall'Università di Camerino in collaborazione con il CODAO, convegno dei direttori generali delle amministrazioni universitarie che si è svolta dal 6 all'8 luglio e rivolta in particolar modo ai tecnici e agli operatori che negli Atenei lavorano negli ambiti del patrimonio, delle edilizie e della sostenibilità che sono giunti a Camerino in rappresentanza di un ampio numero di università italiane così come ai libeli professionisti come architetti ed ingegneri. I lavori sono stati aperti dal prorettore Vicalio Unicam Graziano Leoni, dal direttore generale Unicam e coordinatore del gruppo Star del CODAO Andrea Braschi e dal presidente del Cus Camerino Stefano Belardinelli. Presenti il senatore Guido Castelli, commissario straordinario per la ricostruzione Sisma 2016 che ha trattato il tema della ricostruzione come motore per un nuovo sviluppo e poi anche il professor Francesco Ubertini, presidente del Cineca che ha illustrato il ruolo di Cineca nello sviluppo degli Atenei. I temi trattati sono quelli della gestione del patrimonio immobiliare alla luce di tutte le fragilità che ha tutti i nostri territori e capire quali sono gli strumenti che ci possono aiutare nel prossimo futuro quali sono le opportunità e capire come affrontare le sfide di questo futuro nel modo migliore e più performante possibile visto le grandi risorse che la gestione del patrimonio immobiliare necessita in tutte le amministrazioni pubbliche. Sì, questo mi fa molto piacere sia la qualità dei relatori ci sono alcune personalità molto importanti sia soprattutto la grande affluenza delle strutture tecniche della maggior parte delle università italiane quindi sono state rappresentate veramente in un numero molto significativo per cui diciamo che è stato molto partecipato e anche molto condiviso come obiettivi. In generale il Cineca è il consorzio delle università per la trasformazione digitale quindi diciamo che è il braccio operativo delle università ora la trasformazione digitale oggi comprende e invade tutti i settori uno di quelli sui quali c'è molto da lavorare è l'integrazione tra la dimensione digitale tra lo stato digitale e la gestione del patrimonio intesa come una gestione che parte dal progetto, dall'edificio, durante la sua vita fino all'interazione degli spazi con gli utenti quindi questo è la nuova, diciamo dal mio punto di vista è una delle nuove frontiere su cui i consorziati insieme e quindi all'interno di Cineca lavoreranno nei prossimi anni. La ricostruzione tra memoria e rigenerazione Green Transition between Sustainable Experiences and Projects Procurement e Sostenibilità sono stati i temi delle diverse sessioni tra i relatori intervenuti, ricoperiti segretario generale della scuola normale di Pisa Elena Speranza del Dipartimento Protezione Civile Gavin Scott dell'Università di Nottingham Le conclusioni dei lavori sono state a cura del rettore Unicam il professor Claudio Pettinali